Benvenuti a Vibo Valencia, capologo di provincia. Della provincia che è in sé la costa degli dei, Pizzo e Capo Vaticano, Tropea, capitale mondiale del turismo internazionale, ma anche Serra San Bruno e La Certosa, le montagne delle serre. Insomma, Vibo Valencia, ovvero capoluogo del turismo in senso completo, se solo avesse rispetto per se stessa. Così non è, e non lo è, per diversi motivi, in diverse situazioni, tutte gravemente concorrenti a dare mostra di una situazione costantemente degradata. Emblematico, quanto si nota allo scallo ferroviario di Vibo Pizzo. Già le ferrovie lo considerano di serie inferiore, consentendo le fermate a pochi treni che percorrono la tratta. E già all'arrivo si coglie un senso di abbandono, di desolazione, di sconforto. Per niente un buon biglietto da visita per chi arriva. Un accenno di accoglienza che non c'è, non è contemplato. Ma siamo a fine agosto, a fine stagione. Siamo nel periodo che più che arrivi si registrano partenze. E l'immagine del degrado, dell'abbandono, rasenta l'imbarbarimento. La strada d'accesso alla stazione è un orrore. Non è una strada, è un terreno come fosse stato bombardato. Voragini, sin da mettere a repentaglio l'incolumità, si alternano senza soluzione di continuità con la pericolosa giunta di sterpaglia e vegetazione selvaggia che avanza pericolosamente lungo quella che dovrebbe essere la carreggiata. Un senso di desolazione e di squallore angosciante che certo aiuta a partire, andare via da tanto degrado senza rimpianti piuttosto portando con sé un amaro retrogusto di insulso che offende questa terra benedetta dalla natura e deturpata e violentata dall'uomo. Benvenuti a Vibo Valencia, stazione di Vibo Pizzo.